Non ripetere la prova di domenica scorsa contro la Libertas Regalmuto perché altrimenti sarebbe un vero e proprio disastro, sbagliare umano, perseverare e diabolico. Il Gela domani gioca contro l'atletico Campofranco, si tratta della seconda trasferta di fila dopo quella di sette giorni fa, conclusesi in parità 2-2 e con il risultato agguantato proprio in zona Cesarini dalla formazione bianco-azzurra. Un pareggio che non è piaciuto ai sostenitori gelesi che a fine partita hanno contestato la truppa del tecnico Totò Brucculeri. Si giocava infatti contro una squadra che aveva fatto pochissimo, era la partita ideale per dare un'accelerazione ed invece, come dicevamo, si è raggiunto solo un punticino e per giunta a pochi secondi dalla fine della contesa. In settimana l'allenatore gelese ha lavorato soprattutto nella testa dei propri giocatori, ecco perché ripetere domani la prova di una settimana addietro sarebbe semplicemente assurdo. Il Gela non può permettersi simili passi falsi. All'orizzonte c'è il derby con il Campofranco, in Seni occupano una posizione di classifica deficitaria con 11 punti in compagnia del Curs Palermo e sono reduci dalla sconfitta per 2-0 subita a Mazzara. I biancazzurri non vincono da tre partite, l'ultimo successo risale il 25 ottobre scorso contro la Parmonval, poi una sconfitta nel derby col Mussomeli e due pareggi di fila, uno in casa con il Mazzara e l'altro a Grotte contro la Libertas. In una settimana i gelesi si sono regalati la semifinale di Coppa Italia dopo aver vinto ai rigori contro l'Alba Alcamo. Nel campionato di promozione è turno di riposo per l'Atletico Gela. Gioca invece in trasferta a Marina di Lagusa il Macchitella Nuovo Corso affidato alle cure del tecnico Mirko Fauciana. I biancorossi, che domenica scorsa hanno osservato una giornata di stop, si presenteranno all'appuntamento contro i Blei, forti dal successo 2-1 conseguito contro il Santa Croce.